La cattiva politica per sua natura produce una gran varietà di clientelismo, il consenso è storto a chi è in condizioni di bisogno e la fattispecie più odiosa perché capesta la dignità delle persone sostituendo il diritto con la regalia. Poi, e ci facciamo poco caso, ci sono altre fattispecie molto più articolate, quasi scientificamente organizzate, il clientelismo che utilizza gli enti pubblici per alimentare la catena del consenso e le singole sorti elettorali. In una piccola provincia come l'Irpinia, questa fattispecie ha stabilito una serie non invidiabile di record, alto calore, asile, società per la depurazione, la partecipata che gestisce i rifiuti sono stati letteralmente sbranati dal clientelismo che ha prodotto il loro fallimento tecnico. I costi di questo clientelismo, e a naso siamo appena sotto il mezzo milione di euro, verranno spalmati sui cittadini che nel frattempo hanno già pagato per buoni servizi inefficienti. Che altra cosa è denunciare questa o quella fattispecie del clientelismo senza alcuna contezza, come ha fatto con la involontaria complicità di Don Vitaliano della Sala, il consigliere comunale Antonio Gengaro, a proposito dei pacchi alimentari che sarebbero stati utilizzati in campagna elettorale dai suoi avversari per sconfiggerlo, così facendo ha chiamato in causa donne e uomini che nella Caritas al banco alimentare dedicano una parte del proprio tempo e anche della propria vita facendo un integerrimo volontariato. Gengaro sta elaborando la sconfitta e ancora non trova la scia giusta per spiegarsela, così facendo colleziona sbandamenti uno dopo l'altro, quando ha chiamato in causa i presunti traditori del Partito Democratico, quando ha definito indegni i consiglieri comunali della maggioranza, quando ha bacchettato la timidezza della Procura di Avellino che gli avrebbe impedito di vincere al ballottaggio.